Agropoli piange la scomparsa dello storico preside del liceo classico Dante Alighieri Costabile Cilento, il quale ha ricoperto anche il ruolo di sindaco del 1964 al 1965 e dal 1967 al 1968. Si è spento all'età di 94 anni, uno dei maggiori protagonisti della scena culturale e politica della città. L'uomo, stimato da tanti in particolar modo per la sua grande cultura, ha dedicato la sua vita alla scuola e è stato autore di diverse pubblicazioni e promotore di iniziative culturali. Dal 1978 al 1996 è stato giudice laico presso il Tribunale per i minuti di Salerno. Nel 1989 ha fatto parte, quale curatore, dei rapporti culturali della delegazione invitata nello Stato di New York per il gemellaggio Agropoli Chieti, membro della delegazione della Casa d'Europa del Cilento, all'OCSE presso la CE di Bruxelles, autore di articoli giornalistici e di un'antologia delle opere filosofiche di Cicerone. Agropoli perde non solo un grande professionista ma anche una grande persona che si è contraddistinta nella città i cui insegnamenti resteranno sicuramente nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.